Vedete, quando si parla di umiltà io mi scoraggio perché mi rendo conto di essere tutto tranne che umile, anzi di essere profondamente superbo e quasi quasi fiero di esserlo. È una cosa veramente sconfortante. Ma il capitolo che adesso vi voglio leggere del libro di Don Ernesto Zucchini, Il fuoco dell'umiltà, mi ha confortato. Il capitolo si trova alla pagina 32 e si intitola L'umiltà è beatificante trasformazione. Dice così Don Ernesto, insomma l'umiltà è virtù o no? Gli antichi filosofi dice che non la conoscevano, solo con Gesù Cristo è arrivata l'umiltà come virtù. Sarà poi Sant'Agostino a indicarla come fondamento addirittura della vita cristiana. Per Sant'Omaso l'umiltà è una virtù, parte dell'altra virtù che si chiama magnanimità. San Buonaventura invece lo nega dicendo che è possibile l'umiltà solo nell'ottica della fede, che un'umiltà senza la fede in Gesù Cristo non è una virtù, non è niente. Senza Gesù che la incarna e la rivela l'umiltà come virtù umana non ha senso. L'umiltà vuole atti continui e ripetuti fino alla morte. Ed è questa ripetizione che si direbbe che sia già in sé una virtù. Isacco il Siro è perentorio. Anche senza le opere l'umiltà ottiene il perdono. Invece senza l'umiltà le opere non sono di alcun profitto. Questo dovrebbero ascoltarlo tanti che credono che essere cristiani sia solamente fare opere di beneficenza corporale, fisica, materiale e che riducono la fede semplicemente a un fare delle cose per gli altri, un'opera sociale. Isacco il Siro li smentisce. Senza le opere l'umiltà ottiene il perdono, ma senza l'umiltà le opere non sono di alcun profitto. L'umiltà è l'opera più grande che un cristiano può compiere. Sant'Agostino scrive San Cassiano rincara la dose dicendo che l'umiltà è la maestra di tutte le virtù, è il dono proprio e magnifico del Salvatore. Chi possiede vivere l'umiltà si trasfigura davanti a Dio Padre, che quindi il Padre a un certo punto riconosce come l'immagine somigliante del suo figlio Gesù Cristo e quindi salva. E allora voi vedete somigliare a Cristo è in questa sua caratteristica fondamentale che l'umiltà, lui Dio che si umilia facendosi uomo, mortale, bambino, che ha bisogno di mangiare, ha bisogno di imparare, ha bisogno di lavorare, ha bisogno di tutto. Ecco, questo è ciò che ci rende simili a Gesù Cristo. La bella notizia che mi conforta e che mi dice che forse anch'io potrò diventare umile un giorno quando Dio vorrà come Dio vorrà è che anche se io non sono capace di essere umile in fin dei conti spesso neanche capisco, non riesco, la mia carne si ribella solo all'idea dell'umiltà, è Dio che vuole trasfigurarci e lui lo può fare perché l'opera di renderci come il suo figlio Gesù Cristo è quello che lui ha voluto fare, non per niente ha mandato Gesù Cristo, non per niente lui vuole la nostra salvezza e non la nostra dannazione. Ma quest'opera di trasfigurarci nell'immagine di suo figlio, cioè nell'umiltà, è lui stesso che se lo ha imposto, è possibile solo se noi lo vogliamo. Perché è possibile solo se noi lo vogliamo? Perché questa è la regola dell'amore, di qualsiasi vero amore. Non esiste amore senza libertà e quindi l'amore è sempre l'adesione libera a un progetto che viene proposto e mai imposto. Per questo il cristianesimo è radicalmente all'opposto rispetto ad esempio all'Islam che invece si diffonde per via di imposizione. Il cristianesimo si diffonde per via di proposta che va liberamente accettata o altrettanto liberamente rifiutata. E Dio è così umile che ha il più grande tesoro della terra, il più grande tesoro del cielo che è se stesso da donare all'uomo e cosa fa? Lo propone ma non lo impone ed è disposto a far sì che gli uomini scelgano un piatto di lenticchie rinunciando alla primogenitura di diventare figli di Dio. È una cosa drammatica, una cosa terribile ma è l'umiltà di Dio. I grandi dittatori, i grandi potenti cosa fanno? Impongono la propria forza. Se uno non la riconosce gliela fanno sentire con la violenza. Dio invece non fa questo. Dio propone e lascia liberi, liberi anche addirittura, ed è quello che non vogliono capire, i miscredenti anche all'interno della stessa chiesa, la presenza dell'inferno. È il dramma della libertà. È il dramma che innanzitutto è un dramma per Dio, di perdere un figlio perché è così grande il bene della libertà che Dio non è disposto a togliere la libertà di un suo figlio per obbligarlo a salvarsi, ad essere felice. È piuttosto disposto a che lui per tutta l'eternità soffra e Dio stesso soffra per tutta l'eternità la perdita di un figlio purché quel figlio conservi la libertà di scelta e quindi lo accetti o lo rifiuti liberamente. Perché se noi fossimo solo delle marionette nelle mani di Dio non avremmo nessun merito e quindi non avremmo premio e quindi non avremmo gioia perché, beh, lo capiamo tutti, quando qualche cosa si conquista con le nostre forze ci dà una soddisfazione. Con la nostra capacità, con il nostro impegno è una gioia. Quando lo si ottiene senza nessuno sforzo non ti dà nessuna gioia. È quello che avviene ai ladri che hanno magari tanti soldi ma li sprecano, non se li godono. Perché? Perché non li hanno guadagnati, non li hanno faticati. Quando invece tu ti guadagni, ti fatichi i tuoi pochi centesimi con i quali magari vai a farti, ti concedi qualche cosa, una piccola cosa, una cosa risibile agli occhi del mondo, ma te la godi pienamente perché te la sei conquistata con le tue forze. Così le forze della nostra libertà non possono venire meno e Dio non ce la toglie perché senza quella libertà non saremo Suoi figli, non saremmo capaci di amarlo. Una marionetta non ama nessuno, un essere umano invece ama. Ecco, allora noi sappiamo che questa grande, meravigliosa virtù, insondabile, è un abisso senza fondo da capire, da comprendere, da scoprire. È un dono senza il quale noi non possiamo piacere a Dio, quindi non possiamo salvarci, ma che Dio stesso ci vuole donare. Basta che noi gli diciamo di sì. Allora prendiamo in mano questo libro bellissimo di Don Ernesto Zucchini, il fuoco dell'umiltà, vivere come Cristo affidandosi al Padre. È il nostro libro di Catechesi che ci aiuta proprio nella scoperta e nel fare nostro questo grande dono che Dio ci vuole fare e senza il quale non ci possiamo salvare. Fede e cultura di Giovanni Zenone per conservare la fede, la ragione e il gusto della vita.